Le nuove motion del formulo, parliamo di crociere, sono tutte queste in basso più grosse Quelle in alto, piccoline sono quelle esistenti Si possono aprire tramite questo smile, che troverete soltanto cliccando Sul rispondi di ogni argomento, andando giù a destra Oppure, se tornate all'argomento e andate su risposta rapida Mi si apriranno nella parte alta sinistra Sposta rapida Cliccare su faccine Oppure, rispondi Poi ci sono molte più opzioni da poter utilizzare Cliccare sullo smile e si aprono in basso Sono visibili in maniera migliore Grazie Grazie Grazie